Ciao a tutti ragazzi, sono Cielo Fidi e oggi siamo qui con Mirkix, che però adesso è offline, fa poco che dovrebbe arrivare, con Sunken Island. Allora, quest'oggi, volevo per prima cosa terminare le rotaie, quindi andiamo laggiù in fondo e vediamo poi, ne ho craftate altre 12, sono poche. Però non so come craftare quelle normali, e questo è un problema, vabbè, andiamo là. Sono rimasti... Allora, per prima cosa devi seguirmi un attimo. Cosa devo fare già? Non mi ricordo più. Nell'altra parte dell'isola, cioè, è stato un gigantesco buco, doveva andare a finire di esplorare. Allora, giusto, aspetta che c'è la spazio. Ok, vedete. Io l'arco più potente del gioco. Però non c'è il pvp. Infinita 1... No, cos'è? Infinita 1 e fiamma 1. E poi c'ho la freccia con potenza... Una freccia con potenza? Sì, no, freccia con potenza 5, se non mi sbaglio. Che ci fa qua un ragno delle caverne? Dove, voglio uccidere di con l'arco. Ce lo scone? Dici? Sì, è vero. Aspetta, non spacchiamolo, mi sa che ci fa. Ah, lasciamolo qui. Non ci serve a niente, però non lo spacchiamo. Segui le rotaie. Ci metto... Tetto. Ci ho messo una torcia. E ce la metto anche io. Vabbè ce la metto io. Segui le rotaie. Io c'ho i diamanti e tutte le cose. Ah, dove c'è la keep in 20. Giusto? Sì, sì. Sì, sì. Quanto è lungo? Eh, fino all'altra parte dell'isola, ma non è molto lungo. Vabbè, non ci arriviamo. Scuso il ferro. Questi qua normali, dicevi prima? Sì, quelli, che sono lì. Qua c'è una carota, oddio. Una carota. Così, a caso? Sì, la torsa per terra. Dobbiamo coltivarla su. Da qualche parte qui mi sembrava che c'era un buco che portava al portale dell'end. Dov'era? Ah, sì, non ricordo. Aspetta, era qua. No, ma tanto non stavamo andando lì. Noi andavamo di là, che c'era un buco gigantesco che non abbiamo finito di esplorare. C'era lì. Sì, eccolo. Non mi ricordo io. Eh, lì. Guarda, c'è un buco enorme. Aspetta. Dì c'è un uovo, aspetta. No, no, è qui il portale. Non mi ricordo sta cosa. Vabbè, che c'è? Qui, ecco. Era qui sotto. Che l'ho trovato, io scavavo tipo a cazzo di cane. Io scendo un attimo. Abbiamo preso tutta la roba che c'è dentro la cesta. Sì, sì, l'abbiamo presa. Poi di là non siamo, non abbiamo ancora fatto tutta l'esplorazione. Qua c'è qui. Oddio. Ho trovato qualcosa di segreto. Non dovevo toccare quella roba. Che è successo? Ho toccato, ho messo un cubo per sbaglio. Adesso, fammi il tp. C'è qui. Ecco. Caspita, Irina. Il portale si sta riempendo di lava. Poi non possiamo più entrarci. No, vabbè, ci possiamo entrare. No, ok. Per fortuna. Ci sta crollando addosso la lava! No, questa qua no, questa qua no. Eh, allora, come facciamo uscire da qui ora? Aspetta. Mi sa che l'unico modo è entrare nel portale. Ecco. Ma aspetta, no, no. Se tu ti butti così dentro, se ti muovi... Il bug del tp, il bug del tp, ecco? Il bug del tp. C'è una carota? Dai, proviamo a sconfiggere Ender Dragon. Io non ce la voglio. No, vabbè, fammi il tp, fammi il tp. Ecco. Basta una sola. Ah, ok, vabbè, siamo fuori. Però non possiamo più tornarci ora lì. Sì, sì, vabbè. C'è un po' in qualche modo ci facciamo. Oh, perché? Ok, comunque io volevo andare là. In qualche modo si può fare. Dovevo andare. Dovevo andare? Ah, mi picchiano aiuto. Ho sbagliato il tasto. Con l'arco. È vero, con l'arco io e dove non si possono prendere. Un po' in 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 un po'. No, no, tieni. Aspetta, c'è un po' in un po'. e tu ci dovete book ma non puoi passare se io all'inizio il galeone però aveva finito di spaventare tutto Mi si è rotta la farca Ok procedi a piedi Ecco anche a me In qualche modo Ricopriamo quella cosa del land Anche se viene distrutta Però magari era un land apposta Non era secondo me il portale del land No noi secondo me ci dobbiamo andare a vedere Dobbiamo andarci a vedere Dopo che siamo stati qua andiamo subito a vedere Perché io voglio assolutamente Scoprire se Ma non c'è una cosa degli achievement Sì dobbiamo fare anche quella Eh dove sono gli achievement Erano su terra Che figo mio dio Ecco qui ci sono già stato Però non te l'ho detto C'è stronzo Ora prendo la lana Fermo che dice Please visit cose Ok dice delle cose Qui teoria ci dobbiamo andare Quando finisce la Tutti gli achievement Ah è vero perché dice the end No non finiamo Sì ok dobbiamo esplorare Aspetta che prendiamo un po' di lana Bene l'end ci dobbiamo andare E tipo la cosa Ma non sarà l'end secondo me Quando avrò un arco anch'io Ah io ce l'ho un arco Però non ho le frecce A casa ci sono le frecce Ok Allora prendiamo le frecce Se andiamo subito a sconfiggere Ok Fai spawn Ecco Ecco Andiamo subito di là Ah mucca Io non faccio l'armatura in diamante Eh si in effetti Dici di fare il set completo No va bene abbiamo solo 22 di un Anche non specchiamo Magari se non porterà apposta Si lasciali lì dai Io dico che c'hai davvero l'end lì No sto ben troppo grande Impossibile Ma si che c'è Può essere grande quanto si vuole Ah si Si Tu parta da dove ti pare Io devo fare il gira dell'isola Perché non abbiamo esplorato ancora tutta di qua Quanti mostri cavolo Fai Cosa fai Fai difficolti uno Perché mi sa che siamo tipo in difficile Se sono milioni di miliardi Io non posso fare niente Si che sai io pino Aiuto Era normale Io ora ho messo difficile Metto Facile Difficulti uno Non so se è giusto così però Aspetta faccio io Ecco La cara che l'ho presa mi sa la zappa Fatto Oh via Allora qua c'è un qualcosa dove ci sono delle frecce che prendo Aiuto Scappia tutto Ce l'hai Mischia Il buon millo Eh Ho sei ossa però sto scappando dai mostri ora Fammi teppi muoichi Aspetta prima devo fare Voglio fare il giro dell'isola Così che la conosciamo tutta Da questa parte sembra non esserci niente Tranne dei meloni Ah E mostri Tanti mostri Ma vabbè da dove è apparso questo C'era un creeper che prima non c'era E è venuto fuori dal nulla E questo non riesco a colpirlo Aiuto mi picchiano Mi fanno male Mi stanno uccidendo Che cavolo è stato Una mucca Ho sentito il rumore strano No è la moto fuori c'è Da me Quante esperienze 24 27 Ok Praticamente sono arrivato dalla Dove era il portale adesso Ah no che qui c'era già stato Vengo da te No ho sbagliato Vabbè Ok Aspetta Non c'è di tempo Possiamo farlo Abbiamo dello stile No Ah vabbè Una spada di divante E poi che farla No ma c'è la mia Che è Contracolpo Tutto il risultato 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 Giusto Io vado con il carretto Poi tu mi pensi più Aspetta arrivo anche C'è anche il carretto Tanto Ma non è completo Vabbè No leva di ragno Leva di aiuto No mi hai rispedito indietro Ah ciao Che ci fai quando non è andato di là Sì Che bello Ci vuole pochissimo Non si spiega neanche fame Dobbiamo assolutamente Completarlo questo Cosa Caspita che spavento No 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 Mi ha fatto tutto Ma dove siete? Io sono un cipollone Ma io ci ho visto accanto a me A casa Ma avrei laggato Boh Comunque direi che Questo è il episodio di tutto E noi ci vediamo nel prossimo